Grazie a tutti Grazie a tutti L'Italia non si trivella, il 17 aprile possiamo votare per allontanare le trivelle dai nostri mari Estrarre il pochissimo gas e il pochissimo petrolio che ci sono sotto i nostri fondali avrebbe ricadute insignificanti per l'occupazione, per le casse pubbliche, per la bolletta energetica del paese ma sarebbe invece un rischio enorme, un danno per i nostri mari e con essi per la bellezza dell'Italia, per il turismo, per la pesca, per le comunità costiere Il 17 aprile per dire no alle trivelle vota sì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti